La notizia della separazione tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez ha colpito il mondo dello spettacolo. Fedez ha lasciato l'abitazione coniugale la domenica precedente. Questo dettaglio, confermato dal Corriere, era inizialmente emerso sul sito da Gospia. La nota imprenditrice digitale è attesa come ospite da Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa sul canale 9, domenica 3 marzo. Secondo alcune fonti vicine a Ferragni, sembra che l'imprenditrice non fosse pronta per questa eventualità e ora si trova in attesa di comprendere se la decisione del marito sia definitiva, segnando quindi un momento di serietà nella crisi. La decisione di Fedez di andarsene cade in un momento complesso per Ferragni. Le ragioni dietro questa rottura sembrano radicarsi nei recenti problemi legali affrontati dall'influencer e imprenditrice. Dopo il festival di Sanremo dell'anno scorso, la relazione tra i due ha iniziato a mostrare i primi segni di tensione, ma l'influencer aveva posticipato ogni decisione per sostenere il marito durante la sua malattia. Quando Ferragni si è trovata ad affrontare difficoltà, Fedez non è sembrato altrettanto solidale, rimproverandole come i suoi problemi legali avessero impattato negativamente anche sui suoi affari. Un circolo di accuse in cui Fedez intensificava lo scontro, mentre lei cercava di mantenere la calma. Seguì poi un viaggio di Fedez a Miami con la sua assistente, culminato con la sua partenza dall'abitazione coniugale, riporta da Gospia. Un episodio chiave, sempre secondo il sito, è stato un commento fatto durante una puntata del podcast Muschio selvaggio di Fedez, dove Marco Travaglio, conversando con il rapper, ha paragonato Chiara Ferragni a Wannamarchi, senza ricevere da Fedez alcuna replica, se non un vago Marco se vuoi ti rispondo. Le recenti stories su Instagram di Fedez, datate mercoledì 21 febbraio, sembrano essere state registrate in una location differente dal loro appartamento di lusso nel complesso di City Life a Milano, dove l'ex coppia aveva recentemente preso residenza lo scorso novembre. Ferragni, nelle ultime ore, ha postato due stories che sembrano riflettere un momento di cambiamento interiore. La prima mostra l'immagine di un libro con la dedica. Nella vita, sia la vittoria che la sconfitta sono inevitabili. Quello che non si può mai fare è arrendersi. Successivamente, ha condiviso una frase che afferma Il potere non si trova all'esterno, ma è dentro di te. Inoltre, ha pubblicato un video in cui pratica Pilates con il reformer direttamente dalla sua abitazione, dopo che la notizia della loro separazione era già diventata pubblica.